E' andata in archivio la quinta giornata di ritorno di Superlega a 1. Non ci sono stati risultati eclatanti se si esclude la fatica dell'Asdimud Modena in casa con la top volley latina, un 3-2 che lascia trasparire qualche difficoltà della formazione campione d'Italia, soprattutto con le piccole, fra virgolette, piccole del campionato, che poi piccole non sono, visti i risultati che fanno anche al tempio del volley. Ma comunque Modena ha lasciato dei 14 punti persi per strada, ben 12 con formazioni di secondo livello. Questo non depone in favore della formazione di Coach Piazza che, lo ammesso, deve trovare dei correttivi per far ritrovare anche il sorriso a un gruppo che in questo momento sembra un pochino spento. Non fanno invece sconti alla Lube che aveva già vinto nell'anticipo di venerdì, una Lube assettata di sangue contro la Revivre Milano, un 3-0 comodissimo nell'anticipo di venerdì per l'appunto alla Befana. Non fanno però sconti ai cucinieri la Diatec Trentino, vice campione d'Europa, e la Seer Safety Perugia. Le due formazioni che inseguono i cucinieri in vetta hanno infatti vinto entrambe le proprie partite casalinghe da tre. Trento ha avuto il suo bel da fare soprattutto in due set contro la LPR Piacenza, un 3-0 che comunque ha sancito in Jan Stocker il miglior giocatore in campo, 68% in attacco. Trento ha vinto la nona partita consecutiva in casa in questa stagione e per Piacenza il pala a Trento continua a essere un tabù. È dal 2009, dalla finale Scudetto che vide i Piacentini conquistare il tricolore, che appunto Piacenza non vince in quell'impianto. La Seer Safety Perugia ha lottato un pochino con l'attorno calipo vivo a lenti, è un attorno calipo che è una forza delle rivelazioni di questa stagione, insieme alla G-Group Monza. Sono le formazioni a ridosso delle prime sei posizioni, sono quelle che stanno cercando di restare attaccate al treno dei play-off. Perugia, ma Bernardi l'aveva detto, fatica due set prima di averla meglio dei calabresi, vince 3-1 la formazione Umbra. 31-29 il primo set e questo lascia capire che non è stata comunque una vittoria agevolissima. Il secondo set è andato agli uomini di Cantor e poi dopo 25-19-25-15 la formazione di Bernardi è riuscita così a centrare la quattordicesima vittoria consecutiva. 13 sono firmate proprio dal nuovo tecnico, 10 in Superlega. Questi sono stati i risultati più importanti di questa giornata, giornata che poi ha visto i successi praticamente di tutte le squadre che hanno giocato in casa. Monza ha superato la Biosissora 3-1. Verona continua la serie positiva da quando è arrivato Nicola Gerbic, ha battuto 3-0 la Bunghe di Ravenna, mentre Molfetta ha superato una stanca QN Padova 3-0. Padova è arrivata soltanto nella mezzanotte della vigilia della partita in quel di Molfetta, a causa il maltempo che aveva in qualche modo fatto annullare il volo verso la Puglia. Questa è la serie A1, una serie A1 che tornerà in campo già infrasettimanale con i turni di Coppa Italia, i quarti di finale di Coppa Italia a gara secca che si gioca in casa delle migliori qualificate. In ambito femminile c'è da registrare invece che si sono giocate le gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile con una sorpresa che è quella della Lugio Nord Meccanica Modena che ha eliminato al Golden Set la Puglia Casal Maggiore campione d'inverno. Modena quindi va alla Final Four di Coppa Italia femminile, ancora non è nota la sede, la Lega femminile deve ancora definirla, e sfiderà la Savino del Bene Candici che ha eliminato le detentrici della Foppa Petretti Bergamo. L'altra semifinale sarà quella fra i Moco Volle in campione d'Italia e Igor Gonzalo Novara che hanno bissato i successi dell'andata e di fatto daranno vita nella Final Four alla rivincita della semifinale di due stagioni fa. Questo è il quadro della pallavolo di questo fine settimana, un saluto da Volleyball.it